Informazione su criptovalute. Negli ultimi anni, il trading online è diventato sempre più accessibile grazie alla diffusione della tecnologia e delle piattaforme di trading. Questa guida ti introdurrà al mondo del trading online, spiegando come funziona e come iniziare. Cos'è il trading online? Il trading online è l'atto di acquistare e vendere strumenti finanziari come azioni, materie prime, criptovalute e valute estere attraverso piattaforme di trading online. Gli investitori cercano di trarre profitto dalle variazioni di prezzo di questi strumenti finanziari. Come funziona il trading online? 1. Scegliere un broker. Il primo passo è trovare un broker online affidabile. I broker forniscono la piattaforma e gli strumenti necessari per effettuare le negoziazioni. Assicurati che il broker sia regolamentato e offra commissioni competitive. 2. Aprire un conto di trading. Dopo aver scelto un broker, dovrai aprire un conto di trading. Questo processo coinvolge la fornitura di informazioni personali e finanziarie. 3. Analizzare il mercato. Prima di effettuare una negoziazione, è importante analizzare il mercato. e prendere decisioni informate. Gli analisti tecnici utilizzano grafici e indicatori tecnici, mentre gli analisti fondamentali esaminano i dati finanziari e le notizie economiche. 4. Effettuare un ordine. Una volta che hai deciso cosa negoziare, puoi effettuare un ordine. Ci sono diversi tipi di ordini, tra cui ordini di mercato, eseguiti al prezzo di mercato corrente, e ordini limitati, eseguiti a un prezzo specifico. 5. Gestione del rischio. È essenziale gestire il rischio nel trading. Imposta dei livelli di stop loss per limitare le perdite e considera l'utilizzo di leve finanziarie solo se compresi i rischi associati. 6. Monitorare e adattare. Dopo aver effettuato un'operazione, monitora il suo andamento. 6. Puoi decidere di chiudere una posizione se il prezzo va nella direzione desiderata o se cambiano le circostanze di mercato. 7. Consigli per iniziare. 8. Formazione. Investi tempo nell'apprendere i fondamenti del trading. Ci sono molti corsi online e risorse gratuite disponibili. 9. Pratica con un conto demo. Prima di iniziare a negoziare con denaro reale, usa un conto demo per praticare e acquisire esperienza senza rischi finanziari. 10. Pianificazione finanziaria. Imposta un budget per il trading e mantienilo. 11. Non investire mai denaro che non puoi permetterti di perdere. 12. Diversificazione. Non concentrarti solo su un singolo strumento finanziario. 13. Diversifica il tuo portafoglio per ridurre il rischio. 14. Disciplina. Segui un piano di trading e mantieni l'autocontrollo. 15. Non lasciare che le emozioni guidino le tue decisioni di trading. 15. Il trading online può essere redditizio, ma comporta anche rischi. 16. È importante investire tempo nella formazione e nel perfezionamento delle tue abilità prima di impegnare denaro reale. 17. Inizia con prudenza e pianifica attentamente le tue operazioni per massimizzare le tue possibilità di successo nel trading online. 19. Inizia sound questo av 사ta l'immagine a un Gracias per questo ihr principale più consigliere in 19. Inizia con prudenza. 50. Inizia anz certeza.